Una delle opere che meglio rappresenta i castica è la bufala, perché secondo me è una mostra che è sempre stata una bufala. Questa è una bufala, non so di chi è stata messa ai portici di Via Roma, e comunque visto che noi, come chiaro e tondo, abbiamo sempre detto quello che pensiamo, io credo che, data la direzione nell'asse che va verso la Valdichiana, la potremmo intitolare la bufala e ai portici, per le maiale bisogna arrivare dal Mazzi, dal centro di Arezzo per i castica, per il momento è tutto.